In 200 si sono iscritti per la passeggiata cicloturistica organizzata dalla Fondazione Isal che partirà domani alle ore 9 nella bazia celestiniana di Sulmona. 70 di loro arrivano da fuori regione. Secondo il vicepresidente nazionale della Fondazione, Gian Vincenzo D'Andrea, i numeri che arrivano alla vigilia della manifestazione già fanno presa a gire il successo e la piena riuscita della stessa. Domani quindi tutti in bici per continuare a combattere il dolore cronico. Sarà una bellissima giornata di solidarietà e tantissimi atleti, ciclisti hanno risposto al nostro messaggio che intende portare una speranza a coloro che soffrono di dolore cronico. Non devono credere che per loro non ci sia nessuna cura disponibile. Oggi fortunatamente sono tantissime le possibilità di curare il dolore cronico e quindi noi vogliamo utilizzare proprio lo sport, un momento di sport così significativo come la passeggiata cicloturistica che abbiamo organizzato per domani, proprio per lanciare questo messaggio. Il ritrovo della gara è previsto alle 7.30 alla bazia di Santo Spirito al Morone di Sulmona. La partenza della carovana di solidarietà invece sarà alle ore 9. I ciclisti attraverseranno prima Sulmona per poi dirigersi a Canzano, al Bosco di Sant'Antonio, a Pesco Costanzo dove è prevista la prima pausa Ristoro, quarto di Santa Chiara, Forchetta Palena, Campo di Giove, secondo Ristoro e poi rientro a Sulmona. La giornata di solidarietà si completerà nel pomeriggio con un convegno in programma alle ore 17.30 dalla bazia di Santo Spirito al Morone.